Interventi di manutenzione lungo la strada provinciale asolana. Da oggi per tre settimane via Colorno è interessata da urgenti lavori di risanamento e bitumatura della carreggiata, interventi che comporteranno l'istituzione del senso unico in uscita dalla città verso Colorno. Nello specifico l'ordinanza del comune prevede che a partire dalle 9 di questa mattina 23 giugno a domenica 5 luglio il tratto di via Colorno compreso tra la rotatoria con via Forlanini e la rotatoria posta in prossimità del cavalcavia dell'autostrada 1 si è istituito il senso unico di marcia in direzione nord e dunque verso Colorno. Di conseguenza il traffico proveniente dalla stessa strada Colorno diretto verso Parma, l'autostrada 1 e la tangenziale viene deviato su via Forlanini, via Franklin e anche via Burla. Da segnalare inoltre che da stamane e fino a venerdì 26 giugno compreso sarà chiuso al traffico l'accesso da Borgo San Vitale dall'incrocio con strada della Repubblica per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione dei colonnotti a scomparsa che regolano l'ingresso al parcheggio del municipio. Di conseguenza Borgo San Vitale è percorribile a senso unico alternato con accesso da Borgo Nazario Sauro per consentire l'accesso agli stessi palazzi della zona. Inoltre sarà garantito per i veicoli che ne hanno titolo l'accesso alla residenza municipale utilizzando lo scivolo che viene predisposto in via Farini.